Ieri a Taranto l'inaugurazione del nuovo stabilimento del gruppo Marcegaglia che produrrà pannelli fotovoltaici innovativi. Un passo avanti verso lo sviluppo energetico da fonti rinnovabili. Il servizio. Saranno realizzati presto a Taranto i pannelli fotovoltaici di ultima generazione, manufatti del tutto innovativi per la copertura dei tetti delle nuove costruzioni volte alla produzione di energia elettrica solare. La nuova impresa del gruppo Marcegaglia opererà in collaborazione con Enel Green Power e produrrà ogni anno a pieno regime 4 milioni di kilowattora pari al fabbisogno energetico di 1.400 utenze familiari, riducendo di 1.900 tonnellate annue l'emissione di CO2 in atmosfera. Questa fabbrica in particolare contiene due elementi molto positivi. Il primo è quello legato al fatto che noi abbiamo auspicato e per cui abbiamo lavorato, cioè quello di costruire complete filiere produttive, non soltanto immaginare di attrarre investimenti sull'energia da fonte rinnovabile, ma anche aprire aziende che mettano in circolazione la componentistica necessaria per l'energia rinnovabile, per il suo funzionamento.